Mondo Fitness, 12 settembre 2014, un evento di beneficenza, giornata di beneficenza, eccomi qui con Barbara De Santi. Barbara De Santi di Uomini e Donne Over, vuol dire dei vecchietti. E non sembrerebbe per niente. Eh, mi mantengo bene col fitness, qua io vengo, no scherzo, vado a casa mia però cerco di mantenermi in forma. Ecco, Mondo Fitness, abbiamo avuto tre mesi veramente strepitosi, adesso finisce il 14 settembre. Allora, torniamo a questa giornata di beneficenza molto importante per prendere, appunto, cercare di ricavare questi soldi per acquistare questa MOC da donare all'Umberto I. Allora, io sono partecipante Uomini e Donne, ma soprattutto sono un insegnante, un insegnante di sostegno. E ho a che fare con varie disabilità e handicap, da quelli psichici a quelli anche fisici. Quindi qualsiasi metodologia, qualsiasi macchina, qualsiasi attrezzatura che possa servire a migliorare la vita di ciascuno, benvenga. E benvengano queste opere di solidarietà. Io ti ringrazio per l'impegno, vedo che hai una bussa. Sì, sì, è una bussa da mettere dentro per la raccolta. Prendiamo un pezzettino di macchina con questa. Ah, questa ti fa molto onore, è una cosa bellissima. La stai mettendo adesso o devi aspettare ancora? Ma io la metterai anche adesso, cioè non è che debba esibirla, basta farla e so che è una cosa mia e è questo, è importante. Questa è una cosa che viene da dentro e questo ti fa nuovamente onore. E allora approfittiamo a mettere la mentina adesso. Andiamo, andiamo. Andiamo, direttamente. Un pezzettino la prendiamo. Eccola qui. E anche lei ha dato il suo contributo, ognuno ovviamente ricordiamo dal contributo come può in tutte le maniere possibili. Noi ti ringraziamo della tua partecipazione per questa solidarietà per chi ne ha più bisogno. Sì, poi noi, per chi è amante anche di questo programma, facciamo anche delle sfilate durante l'anno per divertirci. E io due degli abiti del MIS che ho usato per fare la sfilata le ho messe qua all'asta per chi volesse avere un pezzettino anche di me per contribuire anche in questa maniera, diciamo, acquistando, dando un contributo e si porta a casa qualcosa, oltre a di aiutare. E di questo ti ringraziamo. E chi ci sta vedendo, come può fare se non si trova qua? Ah, mi trovi impreparata, eh? Non lo sappiamo. Venite, scopritelo. Esatto, io sono venuta, ho dato il mio contributo per come è posto. Poi, chi vuole, io penso che ci sarà un sito dell'associazione per poter andare a fare una donazione. Ok, io ti ringrazio e comprimiti soprattutto per il tuo impegno. Grazie, grazie a voi per la possibilità di aver fatto mettere parole anche in questa operazione. Un piacere per noi, grazie ancora. Grazie. Mondo Fittres, Christian Paoloni. Barbara De Santi. Di Uomini e Donne, ciao.